Io vi chiamerei una voce che avete molto apprezzato, questa voce giovanissima, che è quella di Gabriella Arruano. Facciamo un bel applauso, visto che vi tolto e vi ha portato anche fortuna, ecco qui Gabriella. So che hai preparato una cosa molto carina, un bel omaggio ad un artista che tutto il mondo conosce. Innanzitutto prepariamo il microfono di... Ah ecco, sì, Domenico Modugno. Domenico Modugno. Quindi ti lascio il palco e mi raccomando, cerca di far cantare il pubblico. Gabriella Arruano! Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Com'è, 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 vo' io bene a te Così, la cosa che non è, non cosa che tu sei, sono sai La cosa che non è, non cosa che tu sei, non cosa che tu sei La cosa che tu sei, non cosa che tu sei, non cosa che tu sei Non cosa che tu sei, non cosa che tu sei, non cosa che tu sei La mia, la mia, maia, 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 ma Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.